Serie BWI appassionati andiamo, andiamo dice Castori mentre invita dall'altra parte ad allargarsi, colpo di testa per Ebagua, stacco buono, Ebagua e su un tiro colpisce male il pallone ha colpito d'esterno sinistro, non è riuscito a dare la forza giusta lunga ricorsa non è riuscito a mettere dentro questo pallone che rimane libero un attimo tentativo di tiro ma c'è l'intervento che blocca l'inserimento di Cone da parte del direttore di gara un lungo lancio si sgancia con due mani punta scoglia Miglio palla sul destro, due mani, e due mani il suo tiro la palla termina fuori, applausi per il giovane ingegnero del Varese verde palla, centrocampo il Varese e poi è bravo di Franco a tornare ma per un attimo Trosti scivolata su Bruno Ferreira pinto punto in avversario preferisce servire Cone che mette dentro e più di trituzza scoglia Miglio Filippe non può tirare conclusione da fuori che termina comunque a lato ci ha provato Franco arriva a limite dell'area anche Cone per sfruttare la lunga gittata di Puccino con le mani in Puccino il pallone dove c'è Zecchin che colpisce il volo ma male un interno destro troppo da sotto la palla sta per entrare in campo al posto di Zecchin Daniele Martinetti Doninelli Verdi e Giuno può arrivarci ma c'è Succiu che rimette dentro è l'anticipo sottoporta tentativo di rovesciata che non produce effetti entra in campo Adriano Mezzaviglia al posto di Doninelli Gorzegno promette attento per Bruno di testa il suo tiro e c'è il gol a sorpresa di Bruno con un'uscita insignificante di Bastianoni è andato a segnare Stavatore Bruno il suo quarto gol stagionale Filippe dalla bandierina parte il cross Martinetti grande parata da parte di Nocchi Oduamadi punto un avversario c'è anche il destro il suo tiro la palla termina fuori nessuna deviazione Franco è uno schema ricorre il pallone carrozzieri svirgola il cross c'è il tiro ed il gol del pareggio da parte di Oduamadi indecisione della retroguardia del Juve Stabia inquadrato Giulio Bagua ma è stato Oduamadi a segnare il gol del pareggio al 29esimo parte il cross il colpo di testa che termina sul fondo un tentativo pericolosissimo di Mezzaviglia l'arbitro sta per fischiare e lo fa in questo istante rimanda le squadre negli spogliatori Varese e Juve Stabia pareggiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti